Congratulazioni a Gaetano Pinto che come molti giovani in quest'ultimo anno consegue la laurea a distanza ma soprattutto per aver scelto ed essersi laureato in una materia quali arti e scienze dello spettacolo e in un settore che in questo lungo periodo segnato dalla pandemia è tra i più sofferenti. Una laurea che va vista anche come buon auspicio per questo anno nuovo appena iniziato nella speranza di poter presto rivedere suo padre Pino Pinto e la sua band così come tantissimi altri operatori dello spettacolo su un palcoscenico o in manifestazioni varie a regalare allegria, divertimento e cultura. E' stata una grandissima emozione quella vissuta giovedì a stanza con i genitori Pino Pinto e Barbara Citera e la sorella Erika che seguivano con trepidazione la discussione della tesi di laurea di Gaetano in la melanconia e la sindrome di Werther. Un momento emozionante per tutti compresi Nonnita, Mipinto e Michelina De Luca che non potendo essere presenti viste le restrizioni hanno seguito l'importante momento tramite collegamento web. Emozionante soprattutto per il momento delicato che sta attraversando il settore e che arriva dopo un lungo anno di sofferenza per la Pino Pinto Band che a seguito del diffondersi della pandemia si è visto annullare tutti i contratti lavorativi in essere vista l'impossibilità a realizzare ogni tipo di manifestazione pubblica ed anche privata in cui si creano le condizioni di assembramento. Dallo scorso marzo l'attività di Pino Pinto è completamente ferma e questo stop proseguirà ancora per chissà quanto tempo a danno enorme del settore. Giovedì 14 dopo un lungo periodo buio una giornata di gioia e di buon auspicio per il futuro con la laurea di Gaetano Pinto che è stata vista come una vittoria da suo padre Pino che manifesta subito la sua gioia attraverso i social. Il passato che si riconferma è il futuro che prende le ali, scrive Pino Pinto. Dedico questo momento di vittoria alla musica, mia indelebile compagna, che oggi mi dimostra quanto sia importante non solo per me ma anche per la mia famiglia. Vederti discutere la tesi continua rivolgendosi al figlio Gaetano. Sentire i complimenti che hai ricevuto dai prof e poi ascoltare i vari ringraziamenti mi ha reso fiero ed orgoglioso di te. Te che sei parte di me. Dispiaciuto per non aver potuto seguire il momento della laurea direttamente presso la sede del Dipartimento di Storia dell'Arte e dello Spettacolo della Facoltà di Lettere dell'Università La Sapienza di Roma e di non aver potuto assistere al momento emozionante della proclamazione in dottore in arte e scienze dello spettacolo, Pino Pinto sottolinea anche come l'emozione è stata ancora più forte visto il drammatico momento che si sta attraversando e che soprattutto il settore sta subendo.